Nasce il 24 gennaio 1979 a Nardò, figlio di Gianfranco, scomparso a gennaio 2013, ma ha sempre vissuto a copertino. Dopo il diploma di liceo classico, inizia una carriera musicale come chitarrista, ma ben presto sviluppa le abilità di cantante e pianista. Fino a diventare un cantante affermato insieme alla sua band e con cui nel 2005 partecipa al Festival di Sanremo, nella categoria Giovani, con il brano Mentre tutto scorre. Nello stesso anno cura la colonna sonora del film La febbre di Alessandro Dalatri, e partecipa con un cameo al film, interpretando un barista, come autore ha scritto le parole che non ti ho detto cantata da Andrea Bocelli. Nel 2006 partecipa al progetto Rezofonic, prestando la propria voce per i brani I miei pensieri e L'uomo di plastica. Collabora alla scrittura del testo di strade da disegnare brano del gruppo Ameba 4. Partecipa al progetto solista di Corrado Rustici De Construction of a Postmodern Musician, interpretando il brano Maledette Stelle. Il 25 agosto 2007 partecipa come ospite alla Notte della Taranta nel Salento, sua terra d'origine, interpretando due brani in dialetto salentino tipici della pizzica. Nel 2007 duetta con Dolores o Riordana nel brano Senza Fiato, brano scritto per la colonna sonora del film Cemento Armato. L'album dei Negri Amaro La Finestra è uscito anche in versione speciale CD più DVD. Il primo contiene le tracce bonus Senza Fiato e Pelle e Calamaio. Il secondo contiene dall'altra parte della luna un documentario in cui i protagonisti raccontano le origini del loro gruppo e mostrano le fasi della lavorazione della finestra. Nel 2008 ha collaborato con Giovanotti nel suo album Safari, partecipando alla canzone omonima, nonché nella canzone Cade la pioggia, scritta dallo stesso San Giorgi per l'album dei Negri Amaro La Finestra. Inoltre ha duettato con Cristina Donà nel brano Settembre. Incluso nell'album Piccola Faccia, per il cinema ha firmato la colonna sonora del film Una Notte Blu Cobalto di Daniele Gangemi. Vincitore del premio per la migliore opera prima al 42esimo World Fest International Independent Film Festival di Houston in Texas. Partecipa al Festival di Sanremo 2009 come autore di due brani. Come foglie è interpretato da Malika Iane e prova a dire il mio nome da Chiara Canzian. Quest'ultimo scritto dietro lo pseudonimo Pelle Calamaio. Utilizza questo pseudonimo quando scrive solo il testo di una canzone. Invece quando scrive sia testo che musica si firma con nome e cognome. Assieme a Giovanotti è ideatore e produttore artistico del progetto Domani 21-04-2009. Brano scritto da Mauro Pagani. Realizzato per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila del 2009. Che vede la partecipazione di numerosi artisti della scena musicale italiana. A fine 2009 duetta con Elisa nel brano Ti vorrei sollevare con la quale tornerà a collaborare in seguito nel 2010 con il brano Basta Così che fa parte dell'ultimo album dei Negramaro Casa 69. E con Claudio Baglioni nel brano Ancora No. Brano che fa parte dell'ultimo disco di Baglioni Q. P. G. A. Nel 2011 scrive per Patti Travo Unisono e Cielo. Brani entrambi inseriti nell'ultimo album Nella Terra dei Pinguini. Nel marzo 2011 subisce un'operazione alle corde vocali con esito positivo. Nell'ottobre 2011 scrive Non ti accorgevi di me per Adriano Celentano e partecipa con Giovanotti e Franco Battiato all'incisione di Non So Più Cosa Fare che Celentano inserisce nel suo album Facciamo Finta Che Sia Vero. Nel novembre dello stesso anno scrive due brani. Brucio di te e così sia. Per l'album di Mina dal titolo piccolino. A maggio 2012 è uscito il singolo Ora il mondo è perfetto dei Planet Funk che vede la collaborazione di San Giorgi alla voce. Mentre il 2 ottobre successivo viene pubblicato Lo spacciatore di carne. E in Audi editore. Un libro noir che vede il debutto letterario del cantante. Nel febbraio 2013 è autore dei brani Niente e Se Poi. Entrambi portati in gara da Malika Ayane al Festival di Sanremo 2013. Nel luglio dello stesso anno collabora con Max Pezzali nella versione in duetto di Ti Sento Vivere. Contenuta nell'album Max 20. Scrive per Elisa il testo del brano Ecco Che. Inserito nell'album dell'artista. L'anima vola. Nel novembre 2013 viene pubblicato il brano Io non ricordo. Da quel giorno tu. Scritto da San Giorgi per Adriano Celentano. Mentre due anni dopo scrive per Laura Pausini il brano Sono solo nuvole. Inserito nell'album simili e realizzato anche in una versione in spagnolo intitolata Solo Nubes. Il 5 maggio 2015 viene pubblicato l'album Ora o mai più del produttore italiano Don Joe. Contenente tra le varie tracce Non c'è il cielo che vede la collaborazione di Giuliano San Giorgi.